Scusatemi tanto, ma dove sono le ragazze cool? Eccoci qui! Perché questo vermaggio è arrivato nel campus, il preside lo ha buttato fuori per cattiva condotta, ricordate! Penso che si scuserà e chiederà di ritornare, sicuramente. Mi scuso per il mio cattivo comportamento, non succederà più, lo prometto. Di cuore lo dico, davanti a tutti. Ti ho detto che si sarebbe scusato. Certo, di cuore, ma tu non hai un cuore, giusto ragazzi? Sì, tutto paccio. Che hai detto? Che cosa hai detto? Dillo di nuovo, forza! Ma Bru, che c'è che non va? Ho detto che sono così felice di vedervi tutti. Certo, sei davvero un mostro di immaginazione. Angie, chi è quel ragazzo calino? In, non pensare nemmeno di guardarlo! Ma perché? È il mio ex fidanzato, un idiota narcisista. Oh, chiuderò gli occhi ogni volta che si avvicina. Puzzle, che diavolo sei venuta a fare qui? Senza di te stavamo così tanto bene. Ora non sono più quel puzzle cattivo, ma così gentile e adorabile. Raccontale a qualcun altro queste flottole, sappiamo come sei. Angie, cosa sono le flottole? Lascia perdere lunga storia, poi ti racconto. Già, che tu? Gli credi? Non lo so. Prof, ma io sono pulito. Ho lavorato per essere il migliore di tutti. Fare di tutto per tornare qui dai miei amici al campus, lo capisce o no? Io non gli credo, sinceramente. Puzzle è molto furbo. Forse è cambiato adesso. Magari è sincero. Ogni persona merita una seconda possibilità. Bella lì, tu con il berretto. Pensiero saggio, amico. Beh, il mio nome è Pippo. Piacere di conoscerti. Ehi tu, non cercare di lusingarmi. Non sarò amico di un perdente. E vattene. Hai detto una cosa un po' forte, amico. Beh, sai cosa? Te la farò cacare per un po'. Che succede? Perché non mi avete detto di questa riunione? Beh, Coschetti, Puzzle vuole tornare al campus e ci chiediamo se glielo permettiamo oppure no. Per me può tornare, ma ha una sola condizione. Dovrà partecipare alle mie lezioni di yoga. Oh, lo yoga è molto strano. Sì, lo è davvero, ragazzi. Ma lo farebbe con le ragazze, però. Che cosa? Posso fare tutto, ma non lo yoga. Non vuoi partecipare all'allenamento di Katie? Beh, al 100% non ti lascio tornare, ok? Il mio uomo. E va bene, mi arrendo. Parteciperò a quei dannati corsi di yoga. Un'altra inutile e noiosa riunione. Ragazze, è tornato il ragazzo carino. Bonia, ti ricordo che stai con Benz. Ciao, che vuoi fare? Se voglio esco con due ragazzi, capito? Perché non ci ho pensato prima? Cose che capitano e comunque voi dovreste pensare all'allenamento, non all'amore. Senti a questa. Prof Max, io penso che Puzzle si meriti una seconda possibilità. Mettiamola alla prova. Se non rispetta la promessa, lo caccieremo fuori dal campus. Una volta per tutte. Ragazze, siete così gentili e carine. Grazie per il supporto. Beh, sapete, ho un'idea. Tu sai cos'è la libertà vigilata? Beh, sì, certo. La conosco. Invece, io penso che non bisogna violare le regole del campus. Se abbiamo cacciato Puzzle dalla scuola, allora non dovremmo farlo tornare. Anche se adesso è carino e coccoloso. Max, lascialo tornare. Mi occuperò personalmente della sua educazione. Aspetta, Chuck. Angie, si è di ti. Lo sistemo io, ok? Ok. Bene. Alzino la mano quelli che sono contrari al fatto che Puzzle torni nel campus. Non vogliamo Puzzle. Dispiaci, mi carino. Che fate, siete scene? Non lo vogliamo, Puzzle. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene, otto contrari. Ora invece alzi la mano a chi vuole che Puzzle torni nel campus. Ancora, ma siete proprio scene! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Accidenti, sempre otto? Beh, sapete, Puzzle rimarrà qui, allora. Sì, Prof Max, lei è il migliore. Sì, ma c'è una cosa. Tu sarai il capo dei perdenti. Che cosa ha detto? Congratulazioni, sei entrato nel team migliore! Ma Prof Max, io non mi unirò a loro. Lo farai, Puzzle, lo farai. L'incontro è finito. Mia tigrotta, vieni con me. Andiamo, Maxi. E allora, bro, congratulazioni, sei nel team migliore! E cosa? Rilassati, bro. Noi siamo dei fichi. Lo sai o no? Lascia che ti svegli un segreto. Siamo molto divertenti. Chi entra nel nostro team deve conoscere le regole dei migliori. Avanti, Ponca, spiegagliele. Quali regole parli? Che stai dicendo? Ascolta e memorizza. Regola numero uno, non fare lo spaccone. Mai! Regola numero due, condividi i campiti e i test. Sì, esattamente, proprio così. Pippa, non osare mai più interrompermi. Regola numero tre. Metti la tua quota per il pranzo. Minimo due dollari. Beh, sai, di solito io metto solo un dollaro. Segretuccio tra noi. Se non partecipi, non puoi mangiare. Come me l'ultima volta. Sì, le regole sono severi, amico. Ma ti ci abituerai, vedrai. Regola numero cinque. Noi stiamo sempre insieme perché siamo un... Basta, state zitti. Non mi interessano le vostre stupide regole. Sacchi di cacca. Non è pulito dopo mangiato. Questa è la regola numero sei. Che idiota. Tranquille, è nuovo qui. Ci si abituerà. Pippa no, deve farlo lui. È meglio andare, ragazzi. Non sono per niente felice che Puzzle sia tornato. E se vorrà unirsi alla nostra squadra, non glielo permetterà mai e poi mai. Capito? Guarda che a me non interessa affatto il vostro puzzle. E tu hai capito, Dance? Sì, certo. Lo raccomando io qui. Lui ha alzato i tacchi e se n'è andato. Perciò si è fregato. Bro, la grande resa dei conti sta arrivando. Rilassati, sono un giocatore di baseball. E avendo una mazza posso fare i conti con Puzzle. Basta, sono esausta. Ragazzi, ci facciamo la doccia. Ok, ciao ragazzi. E infatti... Ciao carino. Ciao ragazzi. Avete visto Angie? Devo parlare con lei. Non abbiamo visto la tua Angie. Yo, Bro. Puzzle è tornato. Ricordate quello che vi ho detto. Sì. Bro, ciao Dance. Senti, che vuoi Puzzle? Cosa? Ti sei dimenticato di me? Sono io. Puzzle, il tuo amico. Ricordi? Ciao, Bens. Ho capito. E tu sei nuovo del gruppo? Perché taci? Ragazzi, che devo dire? Ah, ma certo. Ti ho riconosciuto adesso. Tu sei quel ragazzotto strano. Senti, Puzzle, non chiamarci mai più ragazzotti. Perché solo io posso chiamarli così. Hai capito bene, ragazzotto? Ehi, Bens, che c'è? Vacci piano, ok? Stavo solo scherzando. E poi so io che cosa devo dire qui nel gruppo oppure no, è chiaro? Ricorda chi è a capo del team, ragazzotto. Non so chi è a capo del tuo team, ma io sono a capo del mio team, è chiaro? Che? Sei fuori dalle righe, baby. Non chiamare Bens baby, perché lui è un ragazzotto. Grazie, bro. Che succede? Non riesco a capire. È uno scherzo, questo. Mai e già mai. A proposito, ti ricordo che tu sei il membro della squadra dei perdenti da ora in paio. Lo sai molto bene che noi non usciamo con la squadra dei perdenti. Hai capito, bel ragazzotto? Vai dai tuoi amici perdenti. E stai indietro. Ok. Sapete? Non mi interessa. E sarete dei perdenti senza di me. Io faccio parte della squadra dei più cool. Regola numero sette. Nel team non si dicono parolacce. Vai ancora andare avanti per molto con queste regole del cavolo. Nessun problema, Puzzle. Io ti rieducherò. Sono contenta che Puzzle è nel team dei perdenti. Ma poverino. Ma che poverino. Bellista. È colpa sua. Buongiorno. 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 Ehi, Angie. Che c'è? Sai, penso che noi due dovremmo parlare, non credi? Io penso che non abbiamo niente di cui parlare. Non metterti in mostra con la tua, amica. So che sei ancora presa di me e lo so molto bene. Vuoi vedere una magia? Ah, ma che domande. Certo, certo che voglio. Fammelo vedere. Angie, io penso che dovreste parlare. Vi lascio da soli. Non andare da nessuna parte. Io non parlerò con questo puzzle. Tanto non cambia. Ciao! Ciao!